Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Ferrara Città, al centro di una campagna elettorale che sta entrando sempre più nel vivo. Oggi il ministro dell'interno, vicepremiere e segretario della Lega Salvini era a Ferrara, vedremo le immagini. Anche il sindaco di Parma, Pizzarotti, era in città per Italia in Comune e per le elezioni europee. Tanta quindi la politica in questa edizione. Siamo stati anche ad Argenta e Ostellato dove dovranno scegliere i cittadini il loro prossimo sindaco. C'è anche una grossa novità invece per quanto riguarda il passaggio a livello in Via Bologna e poi vedremo le due nuove biblioteche inaugurate in città oggi. Sentiremo anche le parole di mister Semplici alla vigilia della partita che potrebbe voler dire salvezza aritmetica e permanenza in Serie A il prossimo anno, la prossima stagione. Ma partiamo, come detto, dalla visita del vicepremier Salvini che ha fatto tappa a Ferrara nel tardo pomeriggio nel tour elettorale a sostegno dei candidati sindaci della Lega attorno alle ore 17.30 è arrivato a Ferrara nel piazzale della stazione accolto da diverse autorità tra cui il prefetto Michele Campanaro e il questore Giancarlo Pallini Salvini accompagnato dal candidato sindaco del centrodestra Alan Fabri e anche da Nicola Lodi e da altri leader della Lega ha attraversato piazzale Castellina nel cuore della zona GAD atteso anche da alcuni estracomunitari che vivono e lavorano in zona fino ad arrivare in piazzale Giordano Bruno dove lo attendevano numerosi sostenitori rimasti anche dopo il violento acquazzone che si è abbattuto sulla città poco prima. Dopo essere stato introdotto da Alan Fabri Salvini ha parlato per circa 20 minuti ai propri sostenitori affrontando tematiche di attualità tra cui quello ovviamente della sicurezza sentiamo allora dunque come ha esordito Matteo Salvini nel suo discorso alla città di Ferrara. Grazie perché oggi in Emilia è una roba incredibile sono partito stamattina presto poi in un venerdì di lavoro Fidenza, Reggio Emilia, Modena, Ferrara stasera Forlì Emilia stiamo arrivando il 26 maggio stiamo arrivando e sono sicuro che vista l'aria frizzantina che c'è il cambiamento non ci sarà solo a Ferrara ma ci sarà anche a Modena e a Reggio e ci saranno tanti amici del Partito Democratico che dal 27 maggio avranno tanto tempo libero da trascorrere ai giardinetti per controllare i cantieri, per stare con i nipotini a Ferrara per controllare i cantieri che aprirà il sindaco Alan Fabri visto che se dobbiamo aspettare i cantieri di qualcun altro campo a cavallo che l'erba cresce quindi sono belle sensazioni anche perché se è vero che dopo tre giorni l'ospite pussa dopo 70 anni, madonna mia qua ci sono porte e finestre da spalancare sì lo diceva Alan, vedevo, mi hanno chiamato alcuni giornalisti di Ferrara ma Modena e Reggio non è molto diverso Salvini muori, Salvini crepa, Salvini a testa in giù, Salvini infame oggi pomeriggio a Modena e ho messo le immagini c'era una piazza Matteotti incredibile ci sono state 3000 persone sullo sfondo c'erano 50 nostalgici con la falce, il martello e la bandiera rossa ma fino a che è quello? va bene, quella che non ammetto da cittadino e da ministro è che questi deficienti hanno preso a sassate gli uomini e le donne della polizia e dei carabinieri in un paese normale chi mette le mani addosso a un uomo indivisa sta in galera per giorni e giorni così gli passa la voglia di fare il cretino nella notte anche anarchici hanno lasciato scritto in città con scritto Salvini muori insomma questo fa riferimento il vice premier ma approfondimenti in questo senso ne daremo nelle prossime edizioni del telegiornale e mentre Salvini era in gada a Ferrara per il suo comizio elettorale oggi nel vicino giardino del Grattacielo invece si teneva la manifestazione Ferrara città aperta un evento spostato in questa nuova location proprio dall'iniziativa del partito della Lega ma intanto mentre il ministro dell'interno stava raggiungendo Ferrara in piazza Sacrati in centro è partita la contomanifestazione contro appunto Matteo Salvini studenti, donne, membri dell'AMPI partiti di sinistra e anche l'unione sindacale di base USB si sono dati appuntamento venerdì pomeriggio per manifestare contro l'arrivo a Ferrara del ministro dell'interno e segretario nazionale della Lega Matteo Salvini abbiamo 49 milioni di motivi per dissentire da chi giunge a Ferrara pretendendo di mettere ordine questo è lo spirito che ha spinto in piazza Sacrati i manifestanti riferendosi ai soldi che il partito della Lega avrebbe sottratto non accettiamo l'arroganza di chi avendo un ruolo istituzionale di primo ordine si permette invece di utilizzarlo al solo scopo elettorale così hanno detto i manifestanti che hanno effettuato anche un corteo per portare la protesta per le strade in città Tempo quindi di campagna elettorale per le elezioni amministrative ma anche per le europee oggi pomeriggio la lista Ferrara Concrete Italia in Comune ha organizzato vicino alle immagini che avete visto all'hotel Carton un incontro dal titolo Ferrara e Europa c'era anche il sindaco di Parma Federico Pizzarotti capolista nella circoscrizione nord-est con la lista più Europa Italia in Comune appunto alle elezioni europee presenta ovviamente anche il candidato sindaco della lista Ferrara Concrete Italia in Comune Alberto Bova ma sentiamo l'intervista a Pizzarotti e anche al deputato di Italia in Comune l'onorevole Cerse Soverini e perché dicono c'è bisogno di più Europa? Queste elezioni europee sono le più importanti degli ultimi 50 anni perché di fatto il sentimento antieuropeista il sentimento sovranista nazionalista insomma chiamiamolo come vogliamo ma di chiusura rispetto a quello che l'Europa è sempre stata quindi apertura, regole condivise, passaggio tra gli stati è il rischio maggiore che possiamo vivere ci siamo candidati all'interno di questa coalizione perché crediamo che serva più Europa per avere un'Europa più forte serva un governo europeo, serva una difesa europea serva avere delle regole condivise per quanto riguarda i diritti sul lavoro e la fiscalità e quindi per questo serva riformare perché è evidente che se c'è questa disaffezione rispetto al contesto del Parlamento europeo è anche perché qualcosa non ha funzionato quindi noi siamo qui per ammetterlo ma anche per metterci in marcia per cambiare queste cose non serve uscire come sta dimostrando l'Inghilterra serve rimanere, serve cambiare le regole serve farle funzionare meglio perché avendo più Europa anche l'Italia diventa più forte noi siamo dell'idea che l'Europa va sicuramente migliorata ma anche siamo consapevoli dei tanti vantaggi che l'Europa ha portato all'Italia e di quanto valore abbia in termini di modernizzazione di futuro l'Europa per l'Italia quindi la nostra idea è quella di affrontare la campagna elettorale cercando di parlare dei contenuti cercando di come si possono migliorare le cose di riportare il dibattito a un discorso costruttivo che è l'unica cosa di cui questo paese ha bisogno di costruzione di futuro perché se continuiamo a fondare il paese sulla polemica sul contrasto noi qui veramente andiamo sott'acqua quindi il 26 maggio si voterà per le elezioni europee si voterà per i candidati sindaci a Ferrara Città ma anche in 12 comuni della provincia è già iniziato il nostro tour a conoscere i candidati sindaco oggi siamo stati ad Argenta dove sono tre i candidati per le eminenti amministrative del 26 maggio Ottavio Curtarello per il centro-destra Luca Bertacini per il Movimento 5 Stelle e Andrea Baldini per il centro-sinistra siamo andati a intervistarli anche per capire che cosa faranno per il comune argentano se fossero eletti Argenta è uno dei comuni del territorio ferrarese che si appresta al voto per le amministrative del 26 maggio i candidati sindaci sono tre Ottavio Curtarello per il centro-destra Luca Bertacini per il Movimento 5 Stelle e Andrea Baldini per il centro-sinistra già vice sindaco da due mandati particolarmente estesa l'area su cui si estende il comune con 13 frazioni più capoluogo ed oltre 21.000 abitanti il che significa che si andrà al ballottaggio se nessuno dei tre candidati dovesse superare il 50% dei voti abbiamo chiesto a tutti e tre con un limite massimo di un minuto di tempo che cosa succederebbe se dovessero diventare il nuovo sindaco di Argenta Argenta cambia in meglio perché c'è bisogno veramente di un cambiamento l'occasione per il cambiamento ce l'abbiamo il 26 maggio del 2019 ci sarà più equità sociale, ci sarà più sicurezza in quanto il decreto Salvini verrà applicato comma per comma, articolo per articolo con una speciale attenzione per chi delinque per una speciale attenzione per gli imprenditori che decidono di investire sul territorio e soprattutto premiare chi coraggiosamente ancora tiene botta sul territorio perché ci sono tanti tanti imprenditori sul nostro territorio che vogliono fare impresa e dobbiamo dargli l'opportunità l'amministrazione uscente li ha fatti scappare sono fuggiti nelle province limitrofe noi dobbiamo farli ritornare qui ad Argenta perché più impresa c'è, più lavoro c'è più benessere c'è per tutti i cittadini di Argenta il nostro slogan è proprio quello di dire cambia Argenta cambia Argenta soprattutto nell'ascolto di tutti i cittadini nella consapevolezza che la partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza su tutti i temi che possono coinvolgere le decisioni di un sindaco sia l'unica strada per riuscire ad aumentare ed elevare il livello della qualità della vita del territorio in cui viviamo per fare questo abbiamo già istituito nel nostro programma alcuni spunti e punti che riprendono quello che avevamo già proposto sia cinque anni fa che durante le nostre sedute di consiglio ad esempio il fatto di poter istituire uffici di ascolto per le persone di rivoluzionare i consigli di partecipazione i cosiddetti consigli di frazione togliendoli dall'essere organi elettivi e facendoli diventare organi partecipativi dove chiunque può entrare e decidere il futuro del proprio comune insieme a noi se il 27 maggio sarò il nuovo sindaco del comune di Argenta avrò modo di poter avviare fin da subito due importanti azioni una, un'azione di coesione sociale di cui il territorio argentano ha saputo dare sempre grande prova l'altra, quella di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica attraverso servizi sempre più digitalizzati e un front che possa dare la possibilità al comune di essere costantemente vicino ai cittadini come nel 2019 è necessario fare anche come detto Ostellato è uno dei 13 comuni ferraresi al voto per eleggere il nuovo sindaco del comune ma qua sarà sicuramente una donna la prossima prima cittadina vediamo perché tre donne di età e generazioni diverse sono in corsa per diventare la nuova sindaca di Ostellato dopo due mandati di governo di centro-sinistra a Targato Andrea Marchi ora gli Ostellatesi sono chiamati a scegliere la loro prossima prima cittadina conosciamole allora abbiamo chiesto a tutte e tre cosa farebbero il giorno dopo la loro eventuale elezione a sindaca la prima rispondere, il rigoroso ordine alfabetico è Daniela Fuschini, 64 anni formatrice professionale in pensione segretaria di rifondazione comunista io penso che la prima cosa da farsi sia quella di incontrare il personale del comune personale che io conosco che sono persone altamente qualificate che reggeranno le sorti del comune da qui anche nei prossimi anni pertanto incontrarli e ragionare con loro su quello che si deve fare successivamente incontrerei le organizzazioni che sono presenti sul territorio parlo di sindacati, organizzazioni datoriali, volontariato, associazionismo queste sono le prime cose che farei ecco invece cosa farebbe il primo giorno da sindaca Elena Rossi insegnante di 48 anni con un'esperienza politica alle spalle ed espressione del Partito Democratico Locale la prima cosa che farei è tentare di riavvicinare i cittadini alla politica in questi ultimi anni si è assistito soprattutto da parte dei giovani ad un allontanamento progressivo dalla politica e dalle istituzioni e quindi bisogna recuperare quel rapporto di fiducia che ci deve essere necessariamente tra l'istituzione e il cittadino per cui rilancerei nuovi processi di partecipazione poi un altro tema diciamo all'ordine del giorno è quello della demografia oggi assistiamo ad un invecchiamento progressivo della popolazione questo è un problema grosso che impone un ripensamento complessivo dalle politiche di welfare la più giovane a correre per la portrona di sindaca invece è Leonora Tampieri 28 anni studentessa e lavoratrice del Partito della Lega alla domanda cosa farebbe qualora diventasse prima cittadina risponde così noi vogliamo dare un cambiamento perché appunto è più di 70 anni che il nostro paese è appunto sempre su quel filone noi vogliamo dare dei cambiamenti, delle idee frizzanti e appunto cambiare rotta detto questo non vogliamo appunto cancellare tutti quei servizi che ha fatto il sindaco uscente Andrea Marchi ma vogliamo bensì migliorarli, potenziarli e perché no appunto costruire quei servizi mancanti che appunto mancano a Ostellato e in tutte le frazioni dico anche tutte le frazioni perché per noi è importante valorizzare tutte le frazioni e non lasciarle abbandonate come adesso invece sono appunto abbandonate Siamo le elezioni, la politica, torniamo in città e parliamo di un'importante novità per uno dei cantieri più annosi di Ferrara ovvero il progetto di interramento della linea ferroviaria Ferrara Ravenna e Ferrara Codigoro che interessa soprattutto il passaggio a livello in via Bologna famigerato per i tempi di attesa e per il gran traffico che genera quando si chiude il passaggio a livello Fer Ferrovie Emilia Romagna informa che a partire dal 13 maggio verranno avviati lavori di pulizia e nuova recensione di tutte le aree comprese nel cantiere operazioni necessarie per l'avvio del cantiere vero e proprio atteso da anni le attività dureranno fino alla conclusione di tutti i lavori di sfalcio pulizia e sgombero dei materiali rimasti inutilizzati qui nel tempo prevista a fine settembre appunto Ferri inoltre informerà i residenti di tutti i passaggi del cantiere e rimaniamo a Ferrara perché oggi è nato il nuovo polo delle carte inaugurata appunto questa mattina la nuova biblioteca per ragazzi e ragazze casa Nicolini non si chiama solo biblioteca Nicolini ma la nuova biblioteca per ragazzi e ragazze di Ferrara si chiama casa Nicolini vuole proprio essere una casa per i più piccoli e le loro letture il nuovo edificio appena ristrutturato che si trova in pieno centro storico a Ferrara in via Romiti accanto alla bibliotecario Stea con l'avvio delle attività didattiche e culturali della nuova struttura bibliotecaria si sta completando così il progetto del polo delle carte avviato più di dieci anni fa con l'archivio storico comunale di via gioco del pallone la biblioteca si è ufficialmente insediata in quella che fu l'abitazione del senatore del regno Pietro Nicolini personaggio di primo piano nella Ferrara di fine ottocento e dei primi del novecento sindaco della città e fondatore della società Dante Alighieri gli arredi della biblioteca e del deposito sono stati finanziati con fondi dell'istituto beni artistici culturali e naturali dell'Emilia Romagna e della fondazione Lascito Nicolini la biblioteca per ragazzi è poi collegata con la biblioteca di Ostea da un breve percorso lastricato che congiunge i due giardini e un'altra biblioteca è stata inaugurata sempre questa mattina ma in gad ai piedi del grattacielo è la nuova biblioteca popolare giardino futuro frutto del lavoro di un gruppo di volontari ferraresi e non e questa biblioteca sarà dedicata la consultazione e anche al prestito di libri ma si presterà anche a incontri e presentazioni librarie su temi e generi diversi e lasciamo questa zona della città ci spostiamo ancora in provincia confermata la bandiera blu per Comacchio e suoi lidi il mare dell'Emilia Romagna conferma così le sue sette bandiere blu riconoscimento assegnato ogni anno ai comuni per la qualità ambientale delle località rivierasche in regione non c'è nessuna new entry ma nemmeno delle esclusioni le località insignite della bandiera blu sono appunto Comacchio e i suoi lidi ma anche Cesenatico, Ravenna, Cervia, Misano Adriatico, Bellaria e Genemarina e Cattolica. Cambiamo argomento domenica si terrà a Ferrara la prima edizione di un evento sportivo tutto al femminile si chiama Pink Woman e ha una finalità sociale vediamo quale domenica 5 maggio si terrà a Ferrara una corsa tutta in rosa Pink Woman è il nome della manifestazione di solidarietà a supporto delle onlus per la cura e la ricerca dei tumori delle donne e delle ragazze l'evento che prenderà via da piazza castello è pensato per coloro che vogliono dedicare una giornata a se stesse e al proprio benessere legato alla solidarietà la prima edizione della manifestazione è organizzata dall'associazione polisportiva Fluoran ASD a sostegno dei progetti di AIL, ADMO, ANDOS e associazione di volontariato Giulia che utilizzano i fondi raccolti per realizzare piani di ricerca prevenzione e cura dei tumori delle donne saranno inoltre presenti come ospiti all'interno del villaggio medico altre tre associazioni Onconauti e Sessione di Ferrara associazione nazionale italiani atleti diabetici e associazione professionale di estetica oncologica un programma ricco di iniziative dedicato a salute sport benessere e solidarietà che culmina con la tradizionale camminata dei sei chilometri per il centro di Ferrara il programma della giornata che si terrà anche in caso di pioggia prevede l'apertura del villaggio medico pink woman alle 14 a cui seguirà alle 15 e 30 il riscaldamento dei partecipanti e dell'ambiente con iniziativa fitness e poi ancora warm up e training funzionale zumba fitness e strong by zumba fino alle 17 30 quando vi sarà l'effettiva partenza della corsa e della camminata di solidarietà a ritmo libero all'arrivo musica festa e cerimonio di chiusura musica adesso hanno eseguito magistralmente il quartetto numero 8 opera 110 del russo dimitri sostakovich alla scuola media de pisis di porotto per aprire la commemorazione delle vittime degli ecidi del 1945 ovvero quando dieci giovani di porotto vennero uccisi dai nazi fascisti a poche ore dalla liberazione così i ragazzi ci hanno presentato il brano e commentato l'impegno necessario per eseguirlo il brano che abbiamo suonato oggi è l'ottavo quartetto di dimitri sostakovich il dominore è un quartetto in cinque movimenti senza interruzioni decisamente intenso per la carica emotiva che è capace di convogliare intenso per le sonorità impiegate che sono intendo appunto di trasportare lo spirito della persona che ascolti da un luogo all'altro dal campo di battaglia all'intimo raccoglimento del cuore di una persona affranta per la brutalità che la circonda del suo quartetto sostakovich scrivendo ad un amico il 19 luglio 1960 diceva ho composto questo quartetto ideologicamente condannabile di cui nessuna necessità mi sono detto che se dovessi morire un giorno nessuno penserebbe a scrivere un'opera in mia memoria così ho deciso di scrivermela da solo sicuramente anche suonarlo dà una certa emozione a suo modo perché effettivamente è un'opera che è capace di mettere a confronto le persone con la brutalità del combattimento è un brano difficile è solo una mia impressione mi ha sembrato complessissimo si è difficile sia da preparare sia nell'insieme sia da rendere perché appunto il nostro contributo è stato anche devoluto rendere vari episodi di un genocidio di quindi sostanza oltre a appunto costruire queste dissonanze che non sono mai semplici come le consonanze cioè da costruirle in modo tale da costruire un reale impatto emotivo con il pubblico il compositore si trovava in quel periodo in una città della sassonia vicino a dresda la città della germania che aveva subito nel 1945 uno degli attacchi aerei più afferrati durante il periodo bellico nel dedicare questo quartetto alle vittime della guerra sostakovic metteva anche tutto il suo turbamento personale nei confronti delle persone psicologiche esercitate su di lui prima da stali poi da krausche per eseguire un brano di questo genere abbiamo chiesto agli studenti del conservatorio girolamo fresco baldi di terra serve più la competenza o il coinvolgimento secondo me coinvolgimento anche la assolutamente anche la competenza essendo molto difficile da suonare ma il coinvolgimento nei diversi movimenti è indispensabile la mia espressione era concentrata sull'ambientarmi e crearmi attorno un ambiente passato di cercare di rivivere anche se con solo la mia immaginazione quello che è stato quello che è successo anche se non l'ho vissuto personalmente sport adesso calcio torna alla nazionale femminile italiana a ferrara il 29 maggio le azzurre affronteranno la svizzera lo stadio mazza si tratta dell'ultima amichevole della nazionale femminile prima della fase finale della coppa del mondo fifa che si disputerà in francia dal 7 giugno al prossimo 7 luglio e parliamo ancora di calcio ma di spalle siamo alla vigilia della partita che potrebbe dare la salvezza matematica alla squadra di ferrara ma sentiamo semplici che frena tutti gli entusiasmi sulla carta seguirebbe una formalità ma in realtà che insidie può nascondere questa gara sul campo del chievo vedendo i risultati del chievo nelle ultime gare sicuramente sarà una partita di difficoltà estrema perché hanno vinto la lazio hanno pareggiato in casa con il parma sono in salute non hanno più obiettivi quindi giocano mentalmente liberi da paure e quindi bisognerà affrontarla con grande rispetto con grande attenzione e con la determinazione giusta per portare a casa dei punti importanti un gruppo di giocatori con la nazionale quindi due giorni a disposizione di mancini qualche acciacciato come hai visto il gruppo in questa settimana e anche quali sono le condizioni di quei ragazzi che sono stati in dubbio? no hanno recuperato Nia De Massima sia Bonifazze e Filippe quindi dovremo avere la rosa a disposizione e vediamo l'ultimo allenamento ma insomma Nia De Massima questi due giocatori hanno recuperato e poi per quanto riguarda i ragazzi sono rientrati tutti a posto tutti bene quindi insomma siamo contenti di questa esperienza hanno vissuto e mi auguro che gli serva a loro per un'esperienza positiva per migliorarsi per credere in quello che sono le loro caratteristiche e per cercare anche in questo finale di campionato di dimostrare il proprio valore c'è grande fiducia c'è anche ottimismo a Ferrara lo dimostra il fatto che probabilmente saranno in oltre 2000 i tifosi presenti al Bente Godi facciamo i debiti scongiuri delle caso per festeggiare la seconda inepresa della spalla di Leonardo Semplici me lo auguro sicuramente come dicevo prima non sarà così scontato però ecco il seguito e l'entusiasmo che abbiamo costruito insieme alla società in questi anni credo questo grande seguito sia la testimonianza dei risultati che abbiamo ottenuti e dell'avvicinanza dei nostri tifosi a questa squadra in questi anni lo ripeto è stato determinante per l'aggiungimento dell'obiettivo vi ricordo allora che tutti gli aggiornamenti e le emozioni da Verona della partita tra Chievo e Spalle li potrete seguire a partire dalle ore 17.30 con Match quando Nicola Franceschini e i suoi ospiti appunto commenteranno la sfida mentre vi ricordo un appuntamento di questa sera sempre su Telestense alle ore 21.30 la trasmissione La scuola vive la città il nuovo Aleotti si presenta in cui appunto gli studenti racconteranno la città estense da un punto di vista originale e con questo appuntamento è tutto vi ricordo Telestense.it e i profili social non mi resta che augurarvi una buona serata e darvi appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale